Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino. In questo episodio di Non puoi non saperlo parleremo del sonetto del canzoniere di Petrarca intitolato Erano i capei d'oro a Laura sparsi. In questo sonetto, il novantesimo componimento del canzoniere, l'immagine di Laura torna a riaffacciarsi nella memoria del poeta in modo chiaro e limpido. Oltre alla bellezza di Laura, altro tema del sonetto è lo scorrere del tempo. La datazione è incerta su un arco cronologico che va dal 1339 al 1347. Prima di procedere velocissimamente vi ricordo che se avete bisogno dei testi di questi video li trovate su Amazon insieme agli altri miei libri. Vi lascio un link alla mia pagina Amazon nella descrizione di questo video. Il poeta celebra la bellezza femminile e vi associa il ricordo dell'innamoramento, sentimento così potente che, nonostante il trascorrere del tempo, la ferita da esso provocata non può essere rimarginata. Confluiscono qui i temi più caratteristici del canzoniere. Il senso della caducità del tempo, la contrapposizione vita-morte e materialità-trascendenza, l'autoanalisi critica e ossessiva delle proprie passioni e delle proprie inclinazioni intime. Il sonnetto comincia con la descrizione di Laura nei suoi tratti essenziali, che corrisponde al modello classico e medievale della Donna Angelo, confermato anche nei versi successivi. I capelli d'oro mossi da un leggero vento, immagine che richiama la tradizione classica, il volto che arrossisce delicatamente e gli occhi che si illuminano oltremisura. I versi 7 e 8, quelli dell'esca amorosa, colgono l'io poetico nel momento della prima passione. Il poeta ha un indole che lo porta ad amare, e quindi solo alla vista della donna nasce l'amore per lei. L'io ricompare poi ai versi 12-14, dove il poeta afferma che questa sua ferita d'amore è insanabile. In questo sonnetto Petrarca riprende e rielabora la tradizione stilnovistica e dantesca, descrivendo la donna come angelicata, l'amore come un fuoco che arde e l'innamoramento come una piaga. A differenza della Beatrice dantesca, però, Laura non ha una funzione salvifica, ma sembra essa il simbolo della poesia stessa attraverso il gioco di parole tra il suo nome e il lauro poetico. Osserviamo poi un continuo passaggio tra presente e passato, espresso da tempi verbali all'imperfetto e al passato remoto. Il tempo passato è proprio della dimensione del ricordo e della visione di Laura, cui assegna un valore di indefinitezza. Il presente invece rappresenta in un primo momento l'incertezza del poeta e infine l'affermazione di amore assoluto, estraneo alla dimensione temporale. Bene, passiamo alla parafasi. Come sempre quella che vedete nella slide della poesia originale, vi consiglio di mettere un attimo in pausa, leggere i versi e poi appunto io vi farò la parafasi così saranno comprensibili. I capelli dorati erano sparsi al vento che li avviluppava in mille boccoli soali e la bella luce di quei bei occhi, che ora ne sono così privi, risplendeva con immensa forza. E mi sembrava che il viso, non so se davvero o solo nella mia immaginazione, si colorasse di pietà. Io, che avevo deposta in cuore l'esca amorosa, c'è da meravigliarsi se subito mi infiammai d'amore? Il suo incedere non era quello di una creatura mortale, ma di un angelo celeste, e dalle sue parole traspariva altro che una semplice voce umana. Uno spirito celeste, un sole splendente fu ciò che io vidi, e se non fosse più come allora, la ferita non si rimargina allentando l'arco. Molto bene, siamo tornati adesso di nuovo all'inizio della poesia, quindi alla prima strofa, e analizziamo qualche verso in particolare. A Laura sparsi. Questo gioco onomastico, Laura e l'apostrofo Aura, e Laura, il nome appunto di Laura, è ricorrente nel canzoniere, e fa sì che Laura, anche se non espressamente nominata, diventi presenza costante e forte in tutta l'opera. Si noti che l'Incipit ricorda la descrizione virgiliana della Dea Venere nel primo libro dell'Eneide. Cor ne son sì scarsi. Petrarca descrive qui la donna amata con dovizia di particolari, i capelli d'oro che vengono scompigliati dal vento in mille boccoli, la luce splendente degli occhi e il colorito del volto. Questa descrizione è carica di vitalità, caratteristica che viene presto negata appunto da queste parole corne son sì scarsi, che introducono quel senso di cupezza e di morte che fa da controcanto all'intero libro. Non so se è vero o falso. Realtà e immaginazione si fondono in questo verso, e si aggiungono questi due aspetti all'antitesi tra il richiamo delle passioni e la ricerca di una verità superiore. L'esca amorosa al petto a via. Questa immagine già menzionata dell'esca amorosa, che innesca l'incendio interiore del poeta, sarà ripresa dai petrarchisti, fino a diventare una costante stilistica nelle liriche di Giovan Battista Marino e dei suoi imitatori. D'angelica forma. Questa locuzione è da intendersi diversamente rispetto alla produzione dello stil nuovo. Laura, infatti, non è affatto portatrice di salvezza o di elevazione rispetto alla realtà terrena. Qual era invece la Beatrice raffigurata nel sonetto di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare? Ma è piuttosto una figura che tormenta il poeta fino allo sfinimento. Piaga per allentar d'arco non sana. L'immagine dell'arco che allenta la sua corda, metafora che rimanda all'appassire della bellezza umana di Laura, chiude il sonetto con la grande efficacia rappresentativa, quindi con l'icasticità, che aveva già caratterizzato la prima quartina. Molto bene, questo è tutto per questo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre vi ricordo che se avete bisogno dei testi di questi video sono disponibili su Amazon insieme agli altri miei libri e vi lascio un link alla mia pagina Amazon nella descrizione di questo video. Ciao a tutti e alla prossima!